Salve a tutti, in questo video vorrei pubblicizzare i canali di un mio amico che, come vedete, è su Skype Oh, ci sei? Eh sì, ho fatto partire i video, caro Eh vabbè Eh vabbè, dai, dopo vorrei pubblicizzare i canali di un mio amico che ha pochissimi iscritti, ne ha due praticamente Eh sì che ci sono Oh Eh Senti Eh vabbè, niente, vorrei pubblicizzare i canali di un mio amico che si è sentito Ci sei? Sì, ci sono Com'è Laura Galli? Ah No, niente Eh vabbè Ci sei? Sì sì Eh, dicevo, vorrei pubblicizzare i canali di un mio amico che ha pochissimi iscritti per l'appunto Eh, aspettate se lo trovo nei miei messaggi Nei miei messaggi Cavolo Nei miei messaggi in arrivo, posti in arrivo appunto Tre messaggi, e chi è l'ultimo? Ah, sarà di Food Advanced Gaming No, non c'è nessuno Senti, io ho messo su commenti, posti in arrivo Ah, ecco Extra Mattias Ah, sì te Ah, ecco Grazie Prego, non c'è di che Eh, poi lui E poi anche lui Ancora lui Ok, vorrei pubblicizzare Massimo Massimo 40 Eh, ah, adesso hai tre scritti Boh Vabbè, vabbè, comunque Eh, extra Mattias E niente Vorrei che vi scriveste in tanti Tanti Così da tre diventa Tanti, tanti Tanti, 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 tanti Eh, se no vi sgozzo Perché? Perché è una cosa Un affare fatto tra me e lui E non vi interessa Sai, gli devo farla intro Perché l'hai detto, genio? Tanto Ragazzi Posso farla intro Mi dispiace, ma Ah, solamente a me Perché io sono suo amico Eh Ci conosciamo Sì, ci conosciamo Dai Tramite basket No, adesso non più Tramite basket Cioè, devo scegliere Se me ne vado O se resto Però se resto Devo posso fare Al massimo due partite Con voi Poi basta Ma chi se la frega Stai facendo il video Eh, vabbè Eh, senti Ok Eh, vorrei che vi iscrivesse Se non vi sgozzo Come ho detto Vi fa Eh, niente Quindi iscrivetevi Perché voglio la intro Iscrivetevi Perché voglio la intro Se no Vengo la E Non so cosa vi faccio E Da Da Sì, da Master of Minecraft Da Mister Ma No Da Da PC Game Insomma così Da Extra Mattias Alias PC Game Da me è tutto Ciao a tutti